Quando si inizia a stampare in 3D, avere risultati come questo, ovvero fallimenti, è veramente frequente purtroppo, però il motivo principale per cui succede è la calibrazione del piatto. Calibrare il piatto significa andare a regolare due cose, la planarità del piatto, quindi il fatto che tutti i quattro angoli siano più o meno alla stessa altezza, quindi non inclinati, ma soprattutto la distanza tra l'ugello e la superficie del piatto. Questa distanza va a schiacciare più o meno lo strato di filamento fuso che andremo a depositare. Immagina di avere un chewing gum e di volerlo appiccicare contro un tavolo, più noi lo andiamo a appiccicare, più sarà difficile che questo chewing gum poi si stacchi, diciamo, in qualche maniera dalla superficie. Per andare a livellare il piatto ti consiglio di utilizzare la classica tecnica del foglio di carta o della carta di credito, quindi avere uno spessore costante da andare a mettere sotto ogni angolo del nostro piatto, avvicinare l'ugello e andare a regolare con i pomelli sotto il piatto di stampa la distanza per cui c'è un leggero attrito nel tentativo di sfilare quello che è il foglio di carta o la carta di credito.